ciao a tutti oggi prepareremo la pasta frolla il tempo di preparazione della ricetta di 35 minuti circa ingredienti sono zucchero semolato farina di tipo 00 burro uova tuorlo vanillina lievito per dolci vanigliato la scorza di limone e un pizzico di sale diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro la farina le uova il tuorlo il lievito la vanillina e il sale ed azioniamo il bimbi 30 minuti per 50 secondi a velocità 5 la frolla è pronta formare un panetto avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti trascorse il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo ed è pronta per essere lavorata trasferiamola su un piano di lavoro pasta frolla ideale per crostate o biscotti grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti